l'indirizzo e il controllo soprattutto dell'attività delle unità sanitarie locali sul territorio particolarmente importante. Oggi viene riservata giustamente una importanza notevole a tutto quello che gravita attorno alla salute umana e a tutte le enormi implicazioni sia di carattere ambientale, di carattere sanitario in senso stretto, di stili di vita, di alimenti eccetera che appunto attengono alla salute e tutto questo io credo che richieda un'applicazione specifica